Ciao a tutti amici, sono Luca Di Gennaro di Fotonews, oggi abbiamo un ospite molto particolare che è la nostra lavagnetta e questo in teoria sarei io. So che vi ho sconvolto, quindi vi lascio qualcosa di molto carino, la nostra sigla. Ben trovati, bene amici di Fotonews, oggi sono qui per continuare il nostro corso di fotografia in pillole e concludere quello che è il triangolo dell'esposizione. Abbiamo parlato dell'ISO, abbiamo parlato del tempo nella scorsa lezione, se non l'avete vista guardatela forse anche prima di questa perché ISO e tempo oggi chiudiamo il triangolo, quindi se avete perso le due lezioni precedenti andatele a guardare. Bene, come lo chiudiamo il triangolo? Con il nostro diaframma, abbiamo detto che gli ISO si misurano con una scala numerica che viaggia sempre a stop, dove ogni stop raddoppio diminuisce, o di mezza scusate, la luce che raggiunge la nostra superficie è fotosensibile, nel nostro caso il sensore, in questo caso sarebbe una pellicola, tendenzialmente non cambia nulla, se non per il fatto che alla pellicola non potete continuare a cambiare l'ISO come sulla macchina digitale, ma c'è il rullino che predetermina la sua sensibilità. Invece il tempo lo possiamo variare a nostro piacimento, abbiamo detto che ci può servire per enfatizzare bloccare il movimento, che varia in base all'ambiente, al nostro tempo personale di sicurezza o a quello dell'obiettivo che stiamo utilizzando sulla macchina fotografica. Una cosa che invece viaggia in autonomia, ma sempre correlata agli altri durati del triangolo, è il diaframma. Il diaframma che si misura anch'esso in stop, la cui scala è parte da F1 e va a F1 e 4, F2 2 e 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22 e via discorrendo. 8, 5, 6, da 8 più chiuso, 5, 6 un po' più aperto, raddoppia la quantità di luce, F8, F11, chiudiamo ancora di più il rubinetto della luce e passiamo da uno stop, lo dimezziamo, quindi entra metà della luce, quindi F11 metà della luce, F8 un'unità intera di luce, F5, 6 due unità di luce. F8 è il mio riferimento, dimezzo, F11, raddoppio, 5, 6 un po' come un secondo, due secondi, un secondo, mezzo secondo. Funziona nello stesso modo e il fatto di riuscire a gestire gli stop in questo modo ci aiuta tanto a comprendere che magari se abbiamo la necessità di chiudere un po' il diaframma e di quanto lo chiudiamo di due stop, la nostra foto era già correttamente esposta, cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a recuperarli nell'altra direzione, come o con gli ISO, se non vogliamo muovere il tempo o muovendo il tempo se questo ce lo consente. Quindi il rapporto tempo-diaframma è inversamente proporzionale. all'aumentare della quantità di luce che entra grazie al nostro diaframma, che se vi ricordate abbiamo detto è come se fosse un rubinetto che regola l'acqua, qui regola la luce, dovremmo diminuire la quantità di luce apportata al nostro sensore tramite la regolazione dei tempi o dell'ISO. Però prendiamo in considerazione solo il tempo e il diaframma. Se aumento da una parte il triangolo, devo diminuirlo dall'altra. Funziona in questo modo, ok? Si alza questo lato, si abbassa questo. Viceversa, si alza questo, si abbassa l'altro. Inversamente proporzionale. Ora, cosa regola però il diaframma? Abbiamo detto che gli ISO variano in base all'esterno. il tempo per gestire quanta luce arriva e che effetto questo dà all'immagine in termini di movimento. Cosa ci manca? La profondità di campo, ovvero l'area che al nostro occhio risulta nitida, leggibile, ok? Rapportata al soggetto scattato, che solitamente si estende come? metto gli occhiali, altrimenti non mi vedo. Fatto questo il soggetto, davanti e dietro il soggetto ripreso. Macchina fotografica, soggetto. La profondità di campo è l'area che risulta nitida o leggibile, davanti e dietro il soggetto. Andando per sommi capi, il diaframma molto aperto, esempio F2-8, permette di ottenere una ridotta profondità di campo. L'area nitida sarà molto ristretta. Al contrario, un diaframma molto chiuso, tipo F11 o F16, andrà a aumentare la profondità di campo, quindi l'area nitida davanti e dietro al soggetto. ottime le infografiche, cosa dite? Allora, se notate, ho iniziato a starare questa proporzione. Perché? Perché la profondità di campo non si estende 50-50 davanti e dietro il soggetto, ma talvolta dietro il soggetto arriva all'infinito, mentre davanti non potrà mai essere all'infinito. A un certo punto ci siete voi, ok? Quindi ci sarà una distanza minima sotto la quale la profondità di campo non arriva mai, ma potrà esserci una profondità di campo che tende all'infinito. Ci sono delle formule per ricavarla, ci sono delle applicazioni e anche dei simulatori che sono presenti anche qui sulle pagine di Photonews, ma per calcolare il massimo dell'estensione focale in base che è regolata da diaframma, scusate, la profondità di campo che è regolata dal diaframma che stiamo utilizzando, avete visto, ma anche dalla dimensione del sensore, dalla lunghezza focale del nostro obiettivo e dalla dimensione del sensore, quindi tanti fattori che vanno a incidere. Noi abbiamo delle tabelle e la distanza maggiore realizzabile si chiama distanza iperfocale. Cosa vuol dire? Che ipotizziamo di avere un 50 mm montato, che stiamo scattando a F8, che il nostro soggetto principale è a 3 metri e che il soggetto secondario in primo piano è a 1 metro, che il fiore ci interessa averlo a fuoco e che c'è un albero dietro a 10 metri, quindi noi interessa avere a fuoco da 1 a 10 metri e il soggetto a 3 è compreso, c'è una distanza e ognuno di questi rapporti ne ha una, c'è una forma matematica ma si ricavano facilmente dalle applicazioni, alla quale regolare la messa a fuoco e potrebbe essere, che ne so, 85 centimetri come 2 metri e 20, sto dicendo dei numeri a caso, e la distanza iperfocale ci dice che noi avremo nitido, leggibile, da 80 centimetri, quindi il nostro metro è dentro, sì, perfetto, a infinito, oppure a 22 metri, i nostri 10 metri dell'albero è dentro, sì, quindi ci può andare bene. Come regolare quindi questa cosa? Beh, normalmente cosa si fa? Si mette a fuoco il soggetto, soprattutto con un diaframma molto aperto, perché avendo una distanza, una profena di campo di dotta, si rischia di andare fuori fuoco, mettendo a fuoco un soggetto, come in questo caso ad esempio potrei essere io, con dietro il fondale, va bene che è nero, ma davanti questa lavagnetta, vogliamo avere a fuoco la lavagnetta, tutte le cose, dietro facciamo finta di avere un albero, l'albero non mi piace, lo voglio sfuocare, apro molto il diaframma e dove metterò a fuoco? Sull'occhio, sull'occhio di Luca. In questo modo sono sicuro che il volto è mediamente a fuoco, nel senso l'occhio è perfetto, il naso ok, magari un diaframma molto aperto, se siamo vicini o abbiamo un teleobiettivo molto spinto, risulterà già sfocato, ma sicuramente i disturbi dietro non ci saranno e il soggetto risulterà isolato. A questo serve gestire un diaframma aperto o per isolare soltanto un particolare di un soggetto, che non necessariamente deve essere una persona, può essere anche che io voglio fare una foto a questa macchina e far vedere che questa striscettina qua, questa tacchettina qua è rossa, delle altre non mi interessa, userò un diaframma molto aperto, possibilmente una lente molto spinta, perché più la lunghezza focale aumenta, più diminuisce la profondità di campo. Un sensore ampio, full frame rispetto a una PSC, perché più il sensore è ampio, più diminuisce la profondità di campo, metterò a fuoco esattamente sulla lineettina rossa, farò il mio scatto e avrò la linea rossa a fuoco e lo sfocato morbido davanti e dietro. Qui sono molto ravvicinato, con un diaframma molto aperto e vedete che più o meno davanti e dietro è molto simile. Se invece io volessi avere a fuoco tutto, facciamo finta che qui dietro ho un bosco e voglio avere a fuoco tutto e quanto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare di chiudere il diaframma. Non chiudetelo mai troppo, perché andare sopra F13, F16 per delle lenti molto buone, significa incorrere nel rischio, anzi nel rischio, nella certezza quasi totale della diffrazione, che è un fenomeno ottico, che fa sì che quello che è un puntino in realtà diventi un circolo di disturbo. Ha un nome, ve lo riporto qua sopra. Anche questo è calcolabile con una formula, ma ve lo spiego in un modo abbastanza semplice. Quando voi andate al mare, non ci sono davanti a noi frangifluti, gli scogli, classico come ci sono, che ne so, in Romagna, io ricordo vacanze, rimi, riva bella, quelle zone lì, tu arrivavi in spiaggia e c'era la conca rotonda. Invece se vai dove non ci sono gli scogli, che cosa succede? Che la sponda è dritta, certo le onde viaggiano parallelamente, così come i raggi di luce viaggiano paralleli. Quindi, se noi abbiamo un foro piccolino o un foro grande, voi comprendete che la luce che arriva parallela, quando entra nel foro piccolo, si distorce, passa storta, rispetto a quando passa attraverso un foro più ampio. Così come quando non c'è barriere davanti, l'onda arriva dritta e la spiaggia è dritta, la battiglia è dritta, quando c'è un ostacolo e quindi le onde devono incunearsi all'interno di questo foro, che a noi sembra grande, ma per le onde è piccolo, si piegano e formano questa conca arrotondata. Nello stesso modo succede con la luce, quindi se chiudiamo troppo il diaframma, al posto di ottenere una foto molto molto nitida, perché c'è tanta profondità di campo, otteniamo una foto tendenzialmente poco nitida, che sembra addirittura sfocata. È capitato parecchie volte di vedere degli scatti con un diaframma molto chiuso, cercare dove fosse stato messo a fuoco non si trova addirittura il punto di messa a fuoco, non si riesce a trovare un punto nitido. Quindi vi consiglio di mantenere il diaframma in una fascia di sicurezza, che solitamente è uno stop sopra la massima apertura, che so 2,8, ok, da 4 in su, e dall'altra parte due stop sotto, se arrivo a 22, 11, spingiamoci a 13, che è uno stop e mezzo, uno stop in mezzo, ok, si può rimanere in questi range quasi sempre gestendo ISO e diaframma. Immaginatevi come un canale di sicurezza. Ora, io voglio a fuoco tutto, non è necessario che io metta brah, ma F32 se nella macchina ci arriva, già F8, già F11, io anche mettendo a fuoco il soggetto qua, avrò una parte davanti a fuoco e una parte dietro. Immaginiamoci che questo sia un campo di lavanda e lo volessi tutto a fuoco. Io metterò a fuoco più o meno a un terzo della distanza, più o meno a un terzo della distanza, con un diaframma mediamente chiuso. In questo modo io estenderò la mia profondità di campo, gestendola con il diaframma. Quindi, abbiamo visto che i ISO lavorano in base all'ambiente, il tempo per bloccare o enfatizzare il movimento della lavanda che stiamo fotografando. E che cosa vogliamo? Vogliamo il nostro soggetto a fuoco e il campo di lavanda sfocato davanti e dietro? Soggetto a fuoco, campo di lavanda sfocato davanti e dietro? Diaframma aperto. Voglio il mio soggetto a fuoco e voglio tutti i filai di lavanda nitidi? Diaframma chiuso. Dove mettere a fuoco? Poi questo sta a voi impararlo col tempo, ma idealmente quando c'è un soggetto che è una persona il fuoco va sulla persona e poi si gestisce la profondità di campo con il diaframma, chiaramente. Quando invece è un campo aperto si cerca sempre di trovare a un punto di interesse da mettere a fuoco che sia in una posizione carina per avere una profondità di campo utile a rendere leggibile l'immagine. Quando invece si ha, ad esempio, il filare di lavanda o una serie di alberi, un campo, eccetera, cosa si fa, tendenzialmente si mette più o meno a fuoco a un terzo della distanza. Voi mi direte quant'è un terzo fra me e l'infinito? Secondo me, già con un diaframma chiuso mettendo a fuoco a una decina, otto, cinque, dieci metri di distanza vedrete che avete tutto a fuoco. Tendenzialmente si utilizza un grandangolo, abbiamo detto che più è zoomato, passatemi il termine in francese, più la proprietà di campo si accorcia, ma più io amplio la mia focale con, ad esempio, un 24 mm, più la profondità di campo si estende, quindi diventa tutto meno complesso. E ci permette anche di gestire un diaframma un po' più aperto, scusatemi, proprio per il discorso della diffrazione. Diaframma classico da paesaggio F8, F11, massimo F13, diaframma da ritratto F2, F8, F1, F8, F1, 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 F4. Se dietro c'è tanto spazio e volete tutto quanto nitido, orecchie bene, capelli, eccetera, 5, 6, 6, 6 e 3, tanto se dietro non c'è niente non è un problema, se i soggetti sono molto distanti non è un problema. In linea generale, più noi siamo vicini, quindi, al soggetto, più la profondità di campo si rimpicciolisce, più noi siamo distanti, più questa, a parità sempre di diaframma, più questa distanza aumenta. Più noi abbiamo una lunghezza focale corta, più si estende questa distanza a parità di diaframma, più invece noi zoomiamo con una lunghezza focale spinta, 150, 200, 300 mm, più questa fetta si restringe. Si schiacciano anche i campi, quindi questo è un altro effetto. Non so se siete appassionati di corse, di Formula 1, MotoGP o simili, e avete in mente una ripresa frontale dove le due moto o le due auto sembrano una attaccata all'altra, non appena va sul laterale vedete che sono molto, molto distanti in realtà perché la ripresa frontale con un teleobiettivo che schiaccia i campi sembrano molto vicine le macchine. Allo stesso modo track, che cosa succede? Si allontanano in realtà quando prendiamo lateralmente oppure con un grandangolo avete un'idea che questa stanza sia enorme nonostante sono 30 metri quadri. Magari abbiamo utilizzato un 14 mm, un 10 mm e sembra grandissima. Quindi anche la lunghezza focale ha una sua importanza nella profondità di campo perché più è ampio il campo visivo più è ampia la profondità di campo e più si restringe e zoom più si accorcia la profondità di campo e cambia anche l'effetto visivo dell'immagine. Ecco quindi che abbiamo composto il nostro benedetto triangolo dell'esposizione con il tempo, il diaframma F e vediamo se riesco e l'iso in basso. Una volta che noi abbiamo questi tre parametri bene in mente sappiamo che cosa succede quando ne muovo uno o muovo l'altro possiamo gestire in maniera creativa la nostra immagine. Cosa intendo per creativa? Possiamo arrivare a realizzare lo scatto che ho in mente per profondità di campo fetta nitida dell'immagine per effetto movimento enfatizzato o meno o ad esempio possiamo giocare con l'iso per gestire la coppia tempo il diaframma che ci interessa ritratto f2.8 un 125esimo di secondo e in base alla luce che c'è io utilizzerò gli iso più bassi possibili. Ecco che mettiamo in relazione i tre fattori per ottenere l'illuminazione che vogliamo il movimento conservato o enfatizzato che vogliamo e la profondità di campo che desideriamo scusate realizzare nella foto. Due regole fondamentali che voi potete infrangere come volete ma che dovete conoscere quando si parla di ritratto solitamente si utilizzano diaframmi aperti perché dietro è necessario che sia molto sfocato per isolare il soggetto dall'immagine spoiler se fate dei ritratti ma ad esempio squadra di calcio scolaresca che sono su tre piani non potrete utilizzare un diaframma molto aperto perché rischirete di avere sfocato davanti e dietro vi ricordate? sfocato davanti e dietro quindi chiudere un po' il diaframma e mettere a fuoco sulla fila centrale al contrario nel caso del paesaggio è richiesto che sia tutto nitido salvo dover fare qualche piccolo gioco creativo però il paesaggio richiede che l'immagine sia tutta nitida davanti a noi sino all'infinito e solitamente si richiede che ci sia anche qualcosa nel primo piano perché il nostro cervello trovi pace e comprenda quali sono le dimensioni in campo e se non c'è niente va in tilt e questa cosa che è frontale deve essere a fuoco quindi fate sempre molta attenzione bene abbiamo visto come gestire anche la profondità di campo e abbiamo chiuso così il nostro triangolo dell'esposizione spero che queste lezioni soprattutto le ultime tre che sono un po' la chiave della fotografia insieme a quella che dedicheremo alla messa a fuoco specifica avremo tutti gli strumenti necessari per creare l'immagine che ci interessa la tua immagine continuate a seguirci continueremo a fare insieme questo percorso dove arriveremo al traguardo che ci siamo prefissati come cercherò di stare sempre e camminare al vostro fianco dandovi dei consigli per permettervi di trasformare le vostre immagini in splendide fotografie con questo è tutto vi saluto vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata del corso di fotografia in pillole ciao a tutti da Luca De Gennaro e dallo splendido disegno che ho realizzato grazie ai tecnologici strumenti messi a disposizione dallo studio ciao a tutti